Adesso faremo un paio di esercizi. Prima parliamo della cosa come si imposta ad avviare un cd live partendo dal bios. Questa è una cosa che non posso mostrare purtroppo perché durante il bios non viene visto dal proiettore. Comunque la cosa da guardare è impostare come priorità massima di boot cioè il primo device da cui viene a cercare il sistema operativo che sia o il cd o la chiavetta da cui caricate il bios. Quindi questa è la cosa più importante che dovete seguire quando state per installare o provare una live cd. Adesso partiamo con le cose base che abbiamo visto nel primo talk, cioè spostarsi nelle directory e fare un po' di creare file, cancellare eccetera. Iniziamo prima a vedere cosa c'è nella cartella corrente. Anzi, andiamo nella cartella root, che è la cartella da dove parte tutto il file system. Tutto quello, tutte le partizioni, file system eccetera, vengono montate sotto la cartella root. Quindi in questa cartella, se io faccio ls, vedrò tutto quello che c'è nella cartella principale del sistema. Quindi vedo un po' di file che io vorrei cancellare. Per esempio, questo tmp script eccetera, non lo voglio vedere, come core, non li voglio vedere. Quindi cosa faccio? Dico al mio amico rm di cancellare tmp. Ah, attenzione, quando scrivete sul terminale, se il nome del file, per esempio, avete scritto tmp underscore, non ci sono altri nomi in giro che iniziano col tmp underscore. Adesso fate tab e viene completato in automatico. Poi c'è core, vediamo che nessuno inizia con C, quindi se faccio C, tab e c'è core. Quindi adesso schiaccio invio e mi chiede, rimuovere il file regolare protetto dalla scrittura? Sì, impossibile rimuovere, non ho i diritti. Quindi cosa devo fare in questo caso? Devo fare sudo, cioè dire al sistema che voglio eseguire come superutente, come root, un certo comando. Quindi riprendo il comando di prima, rm tmp script, ok. E poi c'è anche con. Adesso cosa faccio? Se schiaccio il mio, mi viene chiesta la password del mio utente per vedere se ho i privilegi per cancellare questo file. Quindi inserisco la mia password ed ecco che sono stati cancellati. Vediamo il risultato ls ed eccolo che non c'è più. Poi, vediamo come creare un file. Andiamo in una cartella temporanea. Dentro il sistema operativo c'è una cartella chiamata tmp. Root tmp. Questa cartella è dedicata ai file temporanei. Quindi invece di andare nella, se volete usare soltanto un file temporaneo che dopo all'avvio volete via e non mai più vedere, andate nella cartella tmp e nella cartella tmp sono tanti file temporanei. Per esempio ci sono file temporanei che vengono usati da altri programmi eccetera eccetera. Quindi adesso noi cosa facciamo? Abbiamo vari modi per creare questo file. Possiamo dire semplicemente, se io voglio creare un file nel quale dentro ci sia la stringa ciao, cosa faccio? Faccio ico ciao. Cosa fa questo comando? Questo comando scrive nello standard output la scritta ciao. Quindi eccolo qua. Ma io redirigo questa scritta in un file che chiamerò tmp. Posso anche non dare un'estensione. Al sistema operativo non importa delle estensioni. Importa soltanto al programma finale e se poi vi faccio vedere alcune cose per vedere che tipo di file state a cancellare eccetera. Quindi diamo questo comando. Ico ciao riderigo pippo. Quindi adesso in pippo abbiamo questo file, questa stringa che è ciao. Quindi adesso vediamo cosa c'è dentro al file pippo. Quindi cut, pippo, dentro a pippo, cia ciao. Quindi è un modo per creare un file in modo veloce. Però non è solo il solo modo. Per esempio si può anche, cancelliamo pippo, e possiamo fare un modo alternativo. Per esempio il mio editor preferito è BIM. Malgrado quello che ha detto Neku, Emacs è un ottimo sistema operativo, però è un pessimo editor. Quindi non credete lì. Basta andare BIM, pippo, invio. Ed apre una console. I comandi in BIM sono un po' difficilotti all'inizio. Quindi basta vedere, faccio vedere alcuni. Per esempio per inserire del testo ci sono delle modalità in BIM. Per esempio c'è la modalità inserimento testo e c'è la modalità comando. Adesso, come adesso, siamo nella modalità comando. Quindi premiamo I. Non si vede sotto. Devo fare. Ok. Adesso si vede che siamo nella modalità inserimento. Che c'è sotto, inserisci. Quindi inseriamo il nostro ciao. Facciamo ESC. Scriviamo che siamo di nuovo nella modalità comandi. E scriviamo i comandi. write, cioè scrivi su file, due punti, dimenticavo. ESC, due punti, per dire che stiamo per dare un comando. Write, scrivi ed esci. Ed eccolo qua. Se facciamo cut BIM, eccolo qua. Ciao. C'è anche un altro et. Cancelliamo BIM e facciamo nano BIM. Ed eccolo qua che si ha un re-nano. Nano è un editor molto più semplice. Non ha modalità. Tutto quello che c'è da sapere è qua giù. Quindi, scriviamo ciao, guardiamo in basso e vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. salva, ctrl O. Questo vuol dire che bisogna premere ctrl e dopo O. E quindi, crea il comando salva. Quindi facciamo ctrl O. Mi chiede, nome del file in cui salvare BIM? Sì. Invio. Scritta una riga. Adesso per uscire, esci, ctrl X. Ed ecco, se controlliamo, abbiamo BIM. Adesso vogliamo creare una directory in cui spostare il nostro bel file BIM. E quindi creiamo la cartella makedir. Makedir è un comando abbastanza semplice. Basta dire il nome della directory e lo crea nella cartella corrente. Quindi, makedir, test, invio. E se noi guardiamo, ha creato la cartella test. E quindi. Quindi, noi, cosa facciamo? Ma io voglio vedere soltanto la cartella test. C'è la cartella test, ls, ridirigo l'output in un altro programma. Grap, test. Quindi, cosa fa questo? Vede se c'è test nella cartella corrente. Ed eccolo qua che c'è test. Perché era su due righe. E quindi mi ha dato la riga in cui c'era test. E me l'ha anche indirizzato. Non fa sempre l'evidenziazione. Succede soltanto con alcuni terminali e con alcuni comandi. Quindi, adesso, creiamo. Visto che abbiamo creato la cartella test, creiamo nella cartella test. Ok. Nella cartella test non c'è nulla. Ma io volevo spostare qui, tipo. Come faccio? Lo devo spostare con un comando MP. Adesso, il tipo è nella cartella superiore. La cartella superiore si accede alla cartella superiore con due punti. Per esempio, punto, punto e la cartella superiore. Quindi, cartella superiore, tipo. Allora, come diciamo che lo muoviamo nella cartella corrente? La muoviamo nella cartella corrente dicendo punto. Cioè, punto e la cartella corrente. E sempre riguarda la cartella corrente. Due punti riguarda la cartella sopra, immediatamente sopra. Quindi potete fare cose come due punti, slash, due punti per andare due cartelle sopra. E via così. Quindi, adesso, se verifichiamo, c'è il pippo nella nostra cartella. Quello che potremmo ancora vedere è... Quali comandi? Comandi basi? Di greppo? Di greppo? Allora, facciamo un esercizio che... che avevamo preparato e trovate sul portale. Quindi, il portale si accende con i token alla lezione, quindi c'è l'esercizio e i materiali che metteremo dopo la lezione. Chi non ha il token, ripeto, scrivete la vostra mail e ve la invio appena possibile. Allora, vi leggo l'esercizio. No, ma lo posso scaricare? Facendo direttamente così vedete anche voi cosa faccio. Io non ho accesso alla prima lezione, quindi dobbiamo fare... quindi si va nella sezione lezioni, si inserisce il token, si fa in via e diventa accessibile la prima lezione. Quindi, l'esercizio aumenta la contatto. L'esercizio che ha preparato Simone D'Amico, che è il primo token, e iniziamo a leggerlo. Quattro del mattino. Il telefono squilla. Alzi la testa dal cuscino e incominci a imprecare, maleficendo. Quella volta che hai deciso di accettare il lavoro per l'Ikish SRL. Inizia a schiaffeggiarti per riprendere la lucidità necessaria a rispondere al telefono. A quest'ora è di turno Bob. Prendi il cellulare e rispondi preparandoti a sentire la sua voce catarrosa, dovuta alle troppe sigarette in sala macchina. Ehi, qua non funziona un cazzo. Se vi ricordate, al mainframe e funziona. Quindi scaricate il log di accesso. Quindi, subito, provvediamo a vedere chi ha combinato questo casino. Quindi c'è il file accessi.txt, che è qua. Io lo salvo, così ce l'ho. Ce l'ho. Subito. Lo salvo come tnp accessi. Ok. E quindi, partiamo con gli esercizi. salva in un file gli ultimi dieci accessi al sistema. Ok. Noi stiamo nella cartella tmp. Andiamo nella cartella tmp, dove ho salvato gli accessi. Qualcuno ha qualche proposta? Alzate le mani. Vedo una foresta di mani. Mi sento a disagio, quasi. Allora, vediamo un po'. Cap accessi ci dà questa bella cosa. Qualcuno ha qualche proposta? Dai, su. Ok. Tail. Ok. Aggiudicato. Tail. Accessi. Ci dà gli ultimi dieci, le ultime dieci righe del file di log. Quindi, Tail. Accessi. Ci darà soltanto le ultime dieci righe di qua. E infatti, già qua si inizia a vedere che sia il colpevole, però, qua c'è scritto, infatti, dieci righe. Se volevamo invece undici o dodici righe, dovevamo dirgli meno n linee. Quindi, se volevamo per esempio dodici righe, meno n, dodici accessi. E ci dava dodici righe. Ok. Proseguiamo con il secondo. Se volevamo invece il contrario, i primi dieci accessi di un file accessi, oppure le prime dieci righe, si usa head, che funziona allo stesso modo, soltanto che preleva le prime dieci righe. Quindi, head, fino a set, 30, ci darà i primi 30 accessi. E così via. Quindi, qua vediamo che la riga è strutturata in anno percentuale, mese percentuale, giorno, ora, ora, minuto e nome utente. Quindi, capite che qua già è facile separare questi dati. Quindi, la prossima è salvare in un file gli accessi che sono stati fatti al giorno 2011 qui 0519. Quindi, qua, chi ci aiuta? Qua, chi ci aiuta? Abbiamo visto com'è il formato. Quindi, la data è 2011 0519. Qui, facciamo così. Cap accessi e ridiriggiamo. Qualcuno ha una proposta? Amma mia. Vai. Grab. Ok. Ma con cosa? silenzio in aula. 2011 0519. Ok. Due, come hai detto? 2011 0519. Percesso. Metto anche il percento. Ok. L'avete presa anche questo. Ed ecco a voi gli accessi del 19 maggio 2011. Questa cosa funziona non su tutte le console, cioè le video inserzioni. Io uso delle impostazioni particolari per te lo permette. Poi, ci sono sapendo che ci sono 30 dipendenti in azienda, estrai la lista degli utenti che hanno effettuato l'accesso e controlla quanti sono. Ecco, qua vi voglio sentire. Ci interessa quindi l'ultimo campo di questa cosa. Come facciamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il campo 6. Quindi, quindi quale sarebbe il comando? Dai, su, alza la. Unique così. Allora, cosa fai? Scarta, accessi. Ok. Unique. Ma ci sono le date che non sono uniche. Dai, vi do un indizio. Scarta. Scarta. ma funziona anche in un'altra cosa. Ok, ve lo dico io, visto meno D, le dico che il separatore è percentuale e le dico che la colonna, qual era il parametro? F6, il parametro è la sesta e quindi mi escono fuori tutti, tutte le, tutti i nomi di quelli che hanno fatto l'accesso. Quindi adesso cosa voglio fare? Voglio vedere quelli unici. Però vi ricordate che Unique non prende, non prende, non fa il suo lavoro se la lista non è già soldata, non è ordinata. Quindi lo ridirigiamo a Sort. Quindi adesso viene, è stato soldato. Ok, adesso lo voglio unique. ed eccole qua, sortati in lista alfabetica. Però noi cosa volevamo? Quanti sono? Ok, qui. Meno L. E sono 31 utenti che hanno accesso. Quindi qualcuno è un intruso. Poi vediamo. Telefoni al tuo telefone al tuo boss e ti fai mandare la lista degli utenti confermati del sistema. Vedi chi sono gli intrusi e una volta trovati salva in un file tutti gli accessi che hanno fatto. Ok, supponiamo che questo file c'era la lista degli utenti la lista degli utenti sarà un attimo ok. Sulla dietra non mi è stato dato il secondo file lo creo io al momento soft più città ok. E ne togliamo uno a caso gli utenti e adesso gli utenti cancelliamo ok. Adesso abbiamo i nostri due file accessi e utenti quindi riprendiamo il comando di prima caso riprendiamo il comando di prima facciamo k accessi e k utenti e ci facciamo di un'unica non sappiamo accessi e ottenuti prendiamo prima accessi prendiamo solo tutti soft link e li salviamo utenti con accesso ok e abbiamo due file utenti con accesso e utenti che ha mandato il boss ci sono più modi adesso per vedere per vedere le differenze c'è un modo facile e c'è un modo più difficile il modo facile è fare caps accessi e utenti accessi cioè tutte e due concatenarli sort farli sorteggiare e poi vedere può vedere solo quelli quali sono unici quindi io dico meno ottimo qualcosa ah si non sbagliato utenti ed eccolo qua il colpevole è lui è hacker c'è un altro modo per vedere che è un po' più diciamo da hacker cioè usando il comando diff che fa la differenza tra due file quindi vediamo la differenza tra utenti e utenti con accesso ed eccolo qua la lezione è finita però stiamo distribuendo un questionario di gradimento della lezione se per favore potete compilarlo così abbiamo un'indicazione di come migliorare e cosa migliorare grazie grazie